Il Comune di Torre Maggiore ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento pari a 300.000 euro a carico dei fondi FESV per la realizzazione del centro comunale per la raccolta dei rifiuti differenziati. Un interpartito nel dicembre 2017 quando la Giunta deliberò l'adesione al programma regionale di concessione di finanziamenti per la realizzazione di un'isola ecologica da ubicare in località Reinella, su suoli già appartenenti al demanio comunale destinati dal vigente piano regolatore generale a zona per attrezzature pubbliche di interesse generale. In quasi due anni, grazie alla raccolta dei rifiuti differenziati con il metodo porta a porta, abbiamo ottenuto decisi miglioramenti in termini di quantità di frazioni raccolte, ha dichiarato il Sindaco di Torre Maggiore Pasquale Monteleone. E' dunque tempo di dotarsi anche di uno specifico e attrezzato centro comunale di raccolta nel quale effettuare la gestione del ritiro dei rifiuti che non vengono conferiti in forma domiciliare, quella dei rifiuti raccolti prima dell'invio alle varie piattaforme per il recupero e lo smaltimento, conclude così il primo cittadino torremaggiorese.